Team 80 Gabice vince la Coppa Marche 2011 qui a Macerata battendo 3-0 Artigian Vetro Sanseverino, una vittoria meritata, grande emozione per voi? Sì, grande emozione, siamo contentissime, abbiamo fatto una bella partita giocando da squadra, ci siamo meritate questa vittoria. Era questo uno dei vostri obiettivi per questa stagione? Uno era questo, vincere la Coppa Marche e un altro è fare i play-off e vediamo cosa riusciamo a vincere. Artigian Vetro Sanseverino in finale, quindi questo secondo posto, qualche rammarico per voi per non aver provato fino in fondo? Il rammarico c'è perché quando si perde una finale sicuramente c'è il rammarico, però c'è anche dall'altra parte il conforto che ieri abbiamo fatto una buona semifinale, oggi ci sono mancate un po' di energie nervose e fisiche per poter far meglio. Ancora una volta Montalbano Vole riesce ad organizzare, ad ospitare la Coppa Marche, quindi le Final Four, oggi puntata femminile, poi ci sarà la seconda parte con quella maschile. Anche per voi una vetrina dell'impegno quotidiano che mettete nel fare sport e anche un modo per ricordare la figura di Adrio Giacomini? Adrio era un dirigente di notevoli capacità, un dirigente molto umano, un dirigente che ha dato tanto, sia a Montalbano dal momento che poi l'ha creata e l'ha seguita dai primi anni di vita in poi e noi abbiamo 25 anni di attività, sia perché poi amava riconoscersi nei valori sportivi.